Si chiude con un nuovo ribaltone la vicenda processuale della discarica dei veleni di bussi. Nella sentenza della Cassazione nessuna condanna per i dieci imputati, tutti ex dirigenti di Montedison. Quattro sono le assoluzioni per non aver commesso il fatto. Per sei la Suprema Corte ha dichiarato prescritto il reato di disastro ambientale che era stato riconosciuto in appello. La Cassazione ha anche revocato i risarcimenti che ammontavano a circa 4 milioni di euro a titolo di provvisionali che gli imputati dovevano, in base alla sentenza di secondo grado, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente, Regione, Provincia, oltre che associazioni ambientaliste e due privati. Era un aspetto questo ritenuto fondamentale dalle parti civili che puntavano sulla questione risarcimenti visto che le condanne sancite dalla sentenza d'appello, tutte tra i due e i tre anni, erano coperte da indulto. E' questo l'epilogo di una lunga vicenda processuale che nel dicembre 2014 aveva visto l'assoluzione di 19 imputati in Corte d'Assisi a Chieti. In secondo grado, invece, i giudici avevano riconosciuto il disastro ambientale e condannato 10 imputati, mentre era stato dichiarato prescritto l'altro capo di imputazione, l'avvelenamento colposo di acque. Fino alla sentenza della Cassazione, giunta ieri in seconda serata, dopo che nella mattinata avevano preso la parola il Procuratore Generale, i legali di parte civile e le difese. Le associazioni ambientaliste, chiuse a definitivamente la partita in sede penale, guardano avanti e continuano a puntare l'attenzione sulla bonifica del sito inquinato di Bussi. Resta l'amaro in bocca per il fatto che se fosse già stata in vigore la legge sugli ecoreati tutta la faccenda avrebbe preso un'altra piega, tra l'altro la prescrizione non sarebbe stata così semplice. Ma il vero problema adesso rimane quello che abbiamo sempre chiesto, la vera giustizia e la bonifica. Bisognerà trovare una soluzione per la bonifica. Non si può certamente tollerare che al di là dell'esito giudiziario i cittadini paghino due volte per il danno che hanno subito. Ecco, proprio sulla bonifica bisogna adesso concentrarsi, come le ha detto. Passi avanti sono stati fatti in questo senso, nei mesi scorsi? Eh ma bisogna vedere adesso cosa succederà, perché sono stati fatti passi avanti con Montedison, con Edison che doveva, ex Montedison, l'Edison attuale, che avrebbe dovuto rispondere. Bisognerà vedere le conseguenze adesso anche sul piano amministrativo di questa sentenza, bisognerà vedere quali saranno l'atteggiamento della ditta. Certo, il principio chi ha inquinato paghi è sacrosanto, però senza una sentenza di condanna comincia a diventare un po' più complesso.